Ciao a tutti, siamo i Magis of Lotus, benvenuti oppure bentornati nel nostro canale e nello specifico nella rubrica buy, keep, sell. Quindi cosa facciamo in questa rubrica? Semplicemente vi consigliamo se determinate carte richieste da voi appunto sono da tenere, da vendere, se è il caso di comprarle oppure di non comprarle. Vi ricordo che noi, diciamo, queste non sono consulenze finanziarie, cioè noi non siamo dei consulenti, facciamo questa cosa per hobby, quindi tutto ciò è un consiglio da parte nostra, ma poi chiaramente riflettete con la vostra testa. Prima di cominciare vi invito a lasciare un like, attivare la campanella e ad abbonarvi. Se siete abbonati, questo tipo di contenuto, quindi il contenuto buy, keep or sell, lo visualizzerete prima rispetto agli altri utenti, che comunque ringraziamo tantissimo, perché per noi il follow o comunque la visualizzazione è già tantissima roba. Allora, partiamo con la prima richiesta che ce la fa Riccardo, ed è Fatal Push nella versione del Magic Con. Allora, partiamo dal prezzo, 80-90 euro. Poi, da dove spunta questa versione? Allora, questa versione praticamente è stata data a tutti i partecipanti dei Secret Layer Showdown, che sono dei tornei, diciamo, premium, che hanno fatto nei quattro Magic Con. I quattro Magic Con del 2023 sono stati appunto Philadelphia, Minneapolis, Barcellona e l'ultimo appunto Las Vegas. Quindi, torniamo qua. Tutti i partecipanti prendevano appunto, a tutti i partecipanti veniva data una versione di Fatal Push, alla top 32 Ragavan e al vincitore Brainstorm. Quindi, ci sono quattro versioni di questa Brainstorm in tutto il mondo. Comunque, torniamo a Fatal Push. Allora, questo torneo mi sembra che ha un costo di iscrizione di 120-150 dollari. Infatti, se noi guardiamo il prezzo del mercato americano, vediamo come, appunto, Fatal Push qua si è messa in vendita a 160 dollari. In Europa, ovviamente... cioè, non ovviamente... In Europa il prezzo è molto, molto più basso e non so esattamente dirvi perché. E fatto sta che io sono per il sell, per questa carta, cioè la venderei. Perché, allora, è una, diciamo, una carta fortissima fatta al push e proprio per questo motivo... Giocata in tanti formati e proprio per questo motivo subirà tante altre ristampe. Poi, i mesi con, comunque, insomma, sono stati dei tornei molto grossi, degli eventi molto grossi. E quindi, in realtà, mi aspetto che ci siano non poche versioni di questo Fatal Push. E' anche vero che, probabilmente, molti giocatori che hanno, appunto, partecipato a questo torneo premium, se la vorranno anche tenere, questa versione del Fatal Push. Quindi, farsi un settino non è così facile. Però, mi viene da chiedervi, cioè, perché desiderate tanto un set di questo specifico Fatal Push? Cioè, posso capire, magari, appunto, Ragavan, perché ci sono oggettivamente poche copie in giro. Maggior ragione Brainstorm, che adesso non sto neanche a guardare il prezzo. Però, ci sono stati comunque 4 eventi in cui lo regalavano, appunto, a tutti i partecipanti. Quindi, secondo me, non vale la pena spendere così tanti soldi. Cioè, 80-90€ per una carta che, diciamo, si trova in versioni, comunque, belle, a un prezzo molto inferiore, e soprattutto una carta che subirà tante altre ristampe. Perché Fatal Push è giocatissima. Poi, passiamo alla seconda richiesta, che è di Alberto, che praticamente è abbonato da quando io sono entrato nei Mages of Lotus, probabilmente anche da prima, quindi ti ringraziamo veramente tantissimo. E ci chiede la spada di fuoco ghiaccio, e ghiaccio, no, scusa, buy or not. E nella versione, ovviamente, Inventions. Allora, secondo me, questo è un buy. Perché le Inventions sono, l'ho detto altre volte in altri contenuti, sono un prodotto, secondo me, molto, ma molto, diciamo, bello da collezionare, che sarà sempre richiesto, le persone si accorgeranno nel corso del tempo, che un Inventions è più, diciamo, come dire, è più meritevole di essere collezionata rispetto alle carte che stanno facendo adesso, alle serializzate. Almeno questo è il mio pensiero. Cosa c'è da dire? Che anche qua, in America, il prezzo è abbastanza simile, cioè sono 150 dollari, in Europa, leggermente inferiore, insomma, 125 euro. Però, insomma, poi dipende anche dalle spese di spedizione. Comunque, in sostanza, io qua direi buy. Poi abbiamo, allora, Lucio, sì, che ci chiedi buy or not il gift bundle di Lord of the Rings. Allora, partiamo un attimo col dire che cos'è questo prodotto. Allora, è appunto questo cofanetto qui, che vedete, qui siamo su Amazon. E cosa trovate dentro questo cofanetto? Trovate una bustina collector, otto bustine, diciamo, del set, le quattro carte scena, di cui una è The One Ring, 40 terre, di cui 20 foil, 20 non foil, poi un segno e punti, e una confezione foil per conservare le carte. Vabbè, comunque, allora, partiamo subito col dire che, diciamo, praticamente metà del valore di questo prodotto deriva dalla presenza di The One Ring, quindi che, diciamo, si aggira attorno ai 50 euro. È una carta che adesso vedo che c'è una sorta di panic sell, cioè tantissimi la stanno vendendo, stanno provando a venderla, nello specifico proprio questa versione, perché comunque è una delle versioni, diciamo, con più copie in giro, e perché la stanno vendendo? Allora, fondamentalmente per questo motivo qua, perché sarà ristampata a novembre, in almeno queste due versioni, poi chissà se magari non ce ne saranno anche altre. E poi, perché ovviamente, lo sappiamo tutti, che comunque la carta potrebbe essere tranquillamente bannata in Modern, dopo magari che la Wizard avrà venduto questo prodotto qua, che, ripeto, uscirà a novembre. Quindi è una carta che sarà ristampata, che potrebbe essere bannata, ma chiaramente non è che mi aspetto che vada a 5 euro, cioè non può scendere sotto i... adesso vi dico una cifra, secondo me non potrà mai andare sotto i 25 euro. Fatto sta che comunque il prezzo, appunto, di questi bundle, secondo me è destinato a scendere. Quindi io non li comprerei, però, però, visto che comunque fra tre mesi Natale, se tu, diciamo, hai intenzione di... cioè se al tuo era una richiesta vai come regalo per una persona, secondo me è un regalo fantastico, perché comunque se c'è una persona a cui piace sia Magic che il Signore degli Anelli, questo è un regalo... è un regalo bellissimo. Quindi è un prodotto, come dire, che merita, cioè è bello, però, appunto, parlando specificamente solo del prezzo, io mi aspetto che scenda nel corso del tempo, per i motivi che ho detto prima. Poi abbiamo ultime richieste da parte di Lucio, che ci chiede due carte, Treachery e Rick. Allora, partiamo con Treachery. Allora, Treachery è una carta che è giocatissima in Commander ed è in Reserved List. È una carta, appunto, che nel 2021 ha spiegato tantissimo, adesso pian piano sta scendendo assieme a praticamente tutte le Reserved. Allora, cosa c'è da dire? Secondo me, in questo momento, molte persone stanno sbagliando. Cioè, un conto è, come dire, vendere le Reserved che sono salite tanto nel 2021 e che comunque non si giocano, che si giocano poco. Un conto, invece, è vendere carte che sono giocatissime in un formato come il Commander. Queste carte qua, cioè, Stepless del Commander e Reserved List, io sinceramente non le venderei adesso, che le Reserved stanno scendendo. Quindi, per me, questo è un keep. Sì, perché Lucio, scusate, ci chiede keep or sell, a differenza delle prime tre richieste che invece sono state tutte dei Buyer Not. Quindi, questo è un keep. Per quanto riguarda Rick, allora, Rick è una carta, appunto, Universi is Beyond, quindi che è stata stampata un po' di anni fa nel cofanetto di The Walking Dead. È una carta che si gioca in Commander, umani, che si è testata anche in Modern e che però adesso sarà ristampata. O meglio, è stata ristampata con un nome diverso, Greymond. Dove si trova questo Greymond? si trova nelle bustine di Wilds of Eldraine perché è stata inserita in The List. Quindi, la carta è stata ristampata. Mi aspetto, quindi, che un pochino il valore scenda. Perché? Perché comunque abbiamo detto che è una carta molto, molto giocata in Commander. Quindi, diciamo, il suo valore è anche dovuto al gameplay. Ma, secondo me, il suo valore è soprattutto dovuto al collezionismo. Cioè, chi ama The Walking Dead e magari gioca anche a Magic, nel suo Commander non vuole la versione Greymond, ma vuole Rick nel suo Commander. Quindi, secondo me, ci sta il... ci sta il sell. però anche qua non penso che possa scendere di troppo. Cioè, secondo me, almeno, diciamo, fino ai 30 euro, siccome il prezzo... il prezzo lo tiene. Perché, ripeto, Walking Dead, comunque, insomma, è abbastanza grosso come collaborazione e ci sono 74 copie qui su MKM. Siccome, quindi, non può... la carta non può scendere di troppo. Bene, ragazzi, vi ringraziamo se ci avete seguito fin qua e niente, vi invitiamo a continuare con le vostre richieste e a presto. Ciao!